Ciao ragazzi, levaci poi, come sta il tesoro? Tutto bene? Allora, guardate ragazzi, qui ho un dado normalissimo, tutti numeri differenti, regolari. Un mazzo di carte normalissimo. Sapete che io ho solo carte regolari. Il mazzo va mescolato, gli uomini scugli sono più che sufficienti per farvi capire che tutto è completamente in disordine. Vi mostro delle carte, la prima carta, la donna di pic, la donna di pic, facciamo 8 di quadri, qualsiasi carta, 7 di quadri, 7 di cuoli, 3 di fiori, bene. Vi ho mostrato 6 carte come sono le facce del dado e ora il destino. 3, cioè esattamente di questo mazzo, 3, io tocco e appare la carta pensata.